Noi pensiamo che Ninja faccia sempre partite fantastiche, che le vinca tutte, che non faccia mai fail, insomma che sia un mostro, che sia fortissimo Sì effettivamente lo è, effettivamente lo è, ok non posso negarlo, anche se per me è il più forte al mondo di fiuma, questo è un altro discorso Comunque Ninja ha fatto diverse clip nella quale le cose non sono andate esattamente come desiderava, ecco mettiamole in questo modo E soprattutto le sue reazioni non erano diciamo proprio, erano giusto un tantino esagerate Cercando nel web e cercando tra veramente una miriade di clip di Twitch ho trovato finalmente le 10 clip che secondo me sono il più imbarazzanti verso Ninja Nella quale appunto quello che gli succede è qualcosa di fantastico, cioè letteralmente è veramente stranissimo Sarà bellissimo vedere soprattutto le sue reazioni e le mie reazioni e le sue reazioni Quindi sarà una reazione alle reazioni Un bel like se volete altri video simili mi raccomando condividetelo con tutti i vostri amici è fondamentale E soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina se ancora non l'avete fatto Chiedetemi con sotto nei commenti se volete anche la seconda parte di un video di questo tipo Perché a me sinceramente questi clip sono piaciuti tantissimo E niente se avete completato questi passaggi direi che possiamo iniziare Alla prima clip vediamo già che Ninja è alle prese con il cecchino Infatti sta cercando di cecchinare una persona che è molto molto piena di lui Abbiamo 11 kill quindi niente male rimangono solo 9 persone Guardiamo un attimo come se la caverà Ok sta arrivando la tempesta gli dice gli ricorda al suo amico Sta cercando di buildare per arrivare in high ground rispetto al nemico Qua fa un'azione bruttissima del tipo non gli costruiva Allora cosa fa? Decide di andare dietro il muro Però guardate cosa vi apporta questa azione Prende danno sia dal nemico che dalla tempesta Praticamente in questo momento che non gli aveva buildato Ha deciso di andare appunto in quest'altro punto e non si sa per quale motivo E praticamente qui non è che continua ad andare avanti Semplicemente riceve gli spari del nemico E cerca di far costruzioni strane che non stanno in cielo né in terra per salvarsi E poi la reazione qua è un po' esagerata Si sta lamentando che fa schifo Che non poteva piazzare Si effettivamente poteva piazzare la jump per poi salvarsi Però diciamo che non ci sarebbe arrivato quasi nessuno La seconda clip di oggi invece riguarda una cosa un attimino più fuori dal fail Infatti riguarda più che altro lo sclero di ninja che è stato qualcosa di fantastico Non vi voglio spoilerare niente perché Cioè veramente raga penso che sia stato lo sclero più epico in assoluto di ninja E purtroppo questo fail non è stato dovuto a ninja Ma al gioco che non è che si è fatto proprio bene Cioè certo ninja poteva migliorare la mira in questi spari di pompa Però pompa ha tolto veramente poco Ma vi lascio la clip Ok come vedete siamo ad Anarchy Acres Quindi Acre Anarchy ci sono tolta Perfetto fa una kill bellissima Guardate questa 60 e 20 E la reazione di ninja raga è questa Però qua era effettivamente una clip nella quale ninja aveva ragione Cioè il pompa era buggato in quel momento Certo poteva mirare la testa però aveva ragione Vorrei un attimo quest'altra clip che invece conferma quanto cavoli i pompa sono buggati Cioè questi sono i clip anche più vecchi rispetto a quella di prima Però guardate 9 9 Io posso capire tutto Ma togliere 9 in questo modo Cioè no Si vedeva lontano un miglio che era un headshot Passiamo invece a una clip un attimino più vecchiotta Nella quale questo è proprio un fail assurdo Guardate gli fa 7 Con il pompa Ok niente male Qua continua a non prendere il nemico E continuava a non prendere il nemico Qualcosa assurdo Qua l'ha preso 7 Qua non l'ha preso Qua non l'ha preso ancora Qua l'ha preso 67 Ma c'è raga non si può missare così tanto Voglio vedere cosa gli dice al nemico Voglio troppo vedere cosa gli dice Qua raga penso che abbiamo il fail Del fail Non ho veramente mai visto un fail Peggiore di questo Ninja No non puoi fare una cosa del genere Vi lascio la clip perché Fosse stato in ninja Avrei bannato ogni persona che l'ha messa Ok siamo sempre ad Anarchia A Crianarchic Ormai è la città dei fail di ninja Guardate un attimo cosa succede Non lo prende già qui il primo fail Va bene niente male Qua Qua Prende la pistola Prende la pistola e lascia giù il pompa Ma si potrà Ma si potrà Si vede esattamente in questo minuto Guardate c'è la pistola dietro E non se ne ha accorto Come ha fatto a non accorgersene Eh dove è andato il tuo shotgun Eh E a vedere ancora un'altra clip Fantastica di ninja Che fa Penso un altro fail assurdo A pinnacoli Cioè guardate come muore Veramente Questa è una morte indegna proprio Ok Entra subito in questo palazzo Insieme ad un altro tizio E sarà lui la causa della sua morte Guardate un attimo Qua prende l'arma Prende l'arma E si ammazza Perché Io ho capito tutto Ma si potrà essere così speedi Da continuare ad andare indietro Fino a cadere fuori dalla finestra Qua abbiamo ancora un altro fail Veramente strano 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 Cerca di Pushare appunto un nemico A loot lake Siamo a 6 kill Quindi Insomma se muore qua Perde anche un pochettino di kill Mancano 5 persone Non sono tante però Guardate qua Praticamente Esatto Il gioco noia buildato Ma perché lui Buildava troppo in alto Cioè guardate cercava di Vedete cercava Di piazzare I muri Perché devi piazzare i muri Guardate Cioè voleva piazzare i muri Non puoi piazzare i muri Sul live Si sa Però in questo punto Effettivamente aveva ragione Ninja Qua si vede benissimo Che sta cercando di Ah Qua si vede benissimo Però che stava cercando di Di buildare le scale Eh questo è stato Un mezzo fail Una mezza colpa di Ninja Una mezza colpa del gioco Effettivamente qua ci si è messo Anche il gioco in mezzo Dai Cioè che cavolo Qua ancora abbiamo un altro fail Sempre relativo Alle costruzioni E non solo Guardate un attimo Come tenta di pushare Appunto questo nemico Con la granata Esatto Mettiamo un attimo L'azione rallentatore Per far vedere meglio La granata Quella lì Che ti fa saltare L'ha fatto praticamente Saltare sopra il nemico Qua gli ha tirato Uno certo tipo malissimo Però qua doveva già Essere pronto con le costruzioni Qua Ninja Se n'è veramente sbagliatissimo Secondo me Se n'è veramente sbagliata tantissimo Cioè guardate Qua poteva benissimo Prendere in mano le costruzioni Perché ha preso lo scar Eh si Ninja Per dire che non era colpa tua Qua hai proprio sbagliato tantissimo Abbiamo un'altra clip Nella quale Ninja Tenta di fare un rocket ride E saltare appunto Su quell'airdrop Ma non ha calcolato esattamente Il tempo in cui doveva saltare Infatti ha saltato decisamente prima Guardate un attimo Cosa è successo Lui ha saltato Ovviamente non ha preso l'airdrop Cioè si vedeva Che non poteva prendere l'airdrop E alla fine non ha avuto Nemmeno una reazione Così esagerata Guarda dai E sopra di lui Eccolo Eccolo Sì però dai Questo qui Cioè si vedeva Che non era sopra l'airdrop Dai Questo si vedeva Bisogna ammettere che si vedeva Per chiudere in bellezza Vi lascio un fail No Questo fail Penso che sia stato Uno dei Delle cose No veramente Regà No 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 Voi non potete capire Finchè non l'avete visto Non lo potete capire Vi ho lasciato come per la finale Abbiamo 14 kill Rimaste due persone Quindi un numero Veramente incredibile Guardate come Cioè sto zitto Sto zitto Vi lascio Vi lascio il clip Questa è la clip Con Allora aveva un nabbo davanti Che stava fermo Non è possibile Spara Spara C'hai un cacchio Di cecchino Perché non spari Guardate Guardate Piuttosto Per cercare di fare gli headshot Cioè va a sparare Cioè guarda Guarda No ninja 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 non farmi sti scherzi Questo secondo me Poteva essere un finto nabbo Poteva essere un finto nabbo E restato fermo opposta No 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 Anzi no È nabbo proprio È nabbo proprio Il problema è che Dai ninja come fai A messarli tutti così Buono 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 Bravo Bravo Gli ho tolto però pochissimo E qua muore Questo aveva due kill Però in tutto questo Io ancora non ho capito Come ha fatto di ucciderlo Cioè quale arma utilizzava O lo scari L'ha beccato due volte in testa Perché altrimenti È un po' impossibile Qua abbiamo lanciarazzi di ninja Che gli ha fatto un bel po' di male Che arma sta usando Cos'è Non ha fatto nemmeno in tempo Vederlo però Però certo che ninja Qui gli poteva tirare Una bella strigliata Che lo uccideva Quasi Anche qua Dai No no Questo è spostato lui Vabbè diciamo che ha avuto Un po' di sfighe dai Potremmo giustificarli In questo modo Anche se No 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 Poteva giocarsela molto meglio E quindi raga Per tutti questi fail E tutti vi ringrazio tantissimo Per aver visto il video Fino a questo punto Cioè Alcuni fail Io non ci avrei mai creduto Se qualsiasi amico me l'avesse detto Cioè raga Veramente Non ci avrei mai creduto Non è possibile Che ninja Ha uno davanti E non gli spara Ma cosa vuol dire Potetevi tirargli un colpo Di cechino Buonissimo Fargli un sacco di male E poi finirlo con il lanciarazzi E invece No Hai aspettato Perché volevi direttamente L'head Cioè o te Ok ci può stare Però Gli è andata anche un po' di sfiga Quindi raga Mi raccomando Fatemi sapere cosa ne pensate Di questo clip Qua stato nei commenti Vi ricordo ovviamente Un bel like al video Se ne volete altri Soprattutto di commentare Qual è stato Il vostro fail preferito Il mio sicuramente È stato l'ultimo Perché Perché c'è raga Questo fail L'avevo mai visto Da nessuno youtuber Da nessuna persona Da streamer Pro gamer Nessuno Nemmeno a me Mi è mai capitato Un fail del genere Detto questo mi raccomando Condividete con tutti I vostri amici Per farmi vedere Appunto questi fail Assurdi E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ditemi qua sotto Nei commenti Se volete altri episodi Dei fail di ninja Oppure Stavo pensando Anche di fare una serie Nella quale Voi mi mandavate I vostri fail Io li guardavo ovviamente Per email E li portavo Appunto sul canale È una serie ispirata Da Jumpy Tech Che appunto Lui fa le migliori Partite Le migliori partite Dei fan Mentre potrei fare I migliori fail Assurdi Dei fan E vi garantisco Che alcuni Sono veramente divertenti Cioè guardate Le reazioni di ninja A questi fail Quindi raga Fatemi sapere Se una cosa del genere Vi potrebbe piacere Detto questo Noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao ciurma Ciao ciurma Oh my god F*** F*** F***